Questo è il Super Weekend di Sky Sport, questa settimana. Sono contento di giocare l'ultimo grande slam di quest'anno. È stata una battaglia veramente dura. Bagnaio 3, che fenomeno! Che gare ci sta regalando la Formula 1? 1-2, terribile, piazzato da Liverpool, di Allô! Benvenuti a Torino e Juventus-Roma, la partita! Il più grande spettacolo del mondo, su Sky Sport. Grazie a tutti!